12 misure cautelari, 3 in carcere, 9 domiciliari, 14 misure di obbligo di dimora, 28 provvedimenti di interdizione per attività professionale e imprenditoriali, 40 persone e 27 società iscritte nel registro degli indagati, ma soprattutto 63 milioni di beni sequestrati che per un territorio circoscritto come quello della provincia di Chiti non è poca cosa. Di questi 387 conti correnti bancari oppostali, 69 beni immobili fra terreni e fabbricati e 31 autovetture, numeri da capogiro per l'importante operazione di polizia e guardia di finanza di concerto con la procura della Repubblica di Chiti, denominata Dark Shadow, nei confronti di una vera e propria associazione a delinquere specializzata nelle indebite e compensazioni in materia fiscale. Un meccanismo composto da quattro figure principali, i consulenti fiscali che si occupavano di confezionare il prodotto, i procacciatori e i loro coadiutori che si occupavano di reperire la clientela ed ovviamente la vasta platea di clienti, da imprenditori, alcuni anche pare abbastanza famosi, liberi professionisti, ma anche semplici impiegati a coprire un vasto tessuto sociale, in un'azione che parte da Chietiscalo, a ramificazione in campagna, da dove provengono i consulenti, ma che nel tempo si è diffusa su altre cinque regioni italiane, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Puglia. In sostanza, come avveniva la truffa ai danni ovviamente dello Stato, a fronte di un debito con l'Agenzia delle Entrate, attraverso falsi F24, basandosi su vecchie dichiarazioni anche di dieci anni, si stabiliva una situazione creditoria fino a un centesimo inferiore al debito stesso, facendo leva su una falla del sistema di controllo telematico dell'Agenzia delle Entrate che rende difficilmente identificabile l'anomalia. In questo sono stati bravi gli agenti del Guardia di Finanza di Chieti a risalire a situazioni dove l'Agenzia delle Entrate, se non attraverso capillari verifiche a campione, non sarebbe mai arrivata. Le persone tradotte stamane in carcere sono Maurizio Di Biase, 51 anni di Chieti, figura apicale dell'organizzazione, e due consulenti del casertano Renato De Luca e Michelangelo Maffei. Le persone domiciliari Mattia Di Biase, figlio di Maurizio, Lorenzo D'Arcangelo, Romeo Melaragna e Matteo Veneziani a Chieti, Orazio D'Ambrosio a Pescara, Gennaro Maffei, Vincenzo Campoluongo, Gelsomina Maffei e Luciano De Rosa tra Napoli e Caserta. Il tutto parte da intercettazioni nell'ambito di un'altra indagine della squadra mobile di Chieti risalente all'ottobre di un anno fa. Da questi contatti che noi comunque ascoltavamo sono emerse effettivamente delle ipotesi di reato peculiari, specifiche, che hanno necessitato di un approfondimento investigativo portato avanti dalla Guardia di Finanza perché riguardava appunto materia fiscale, tributaria e fiscale. L'inchiesta nelle mani del PM Giancarlociani è stata particolarmente sottolineata per la sua importanza dal procuratore capo Francesco Testa che ha parlato di quadri inquietanti, specie in un territorio economicamente sofferente. Importanza sottolineata anche dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Serafino Fiore. In un momento in cui la crisi economica ha costretto molti imprenditori di fronte a dilemmi assolutamente importanti, ovvero se pagare i dipendenti piuttosto che pagare le imposte dovute allo Stato per non rischiare il fallimento dell'azienda, noi ci siamo trovati di fronte invece a soggetti spregiudicati che con un semplice click di un computer e poi ovviamente producendo una serie infinite di certificazioni assolutamente fasulle, azzeravano completamente il loro debito verso lo Stato, alias verso tutti i cittadini.